Buongiorno a tutti, benvenuti. Ho seguito con interesse questo video che Temi Ebram ha pubblicato sui suoi profili social. È un video in cui lui a Milanello ha allenamento sui calci di punizione e lui ne segna due su due molto belli con la barriera statica e non quella che salta, ma ne fa due molto belli e li piazza tutti e due nello stesso angolo. E fa il segno proprio delle freccette le stesse che mi tirate voi ogni minuto dalla mia vita. Però freccette a bersaglio questa volta. Le mie sono solo virtuali, ma insomma non sempre solo virtuali. Freccette a bersaglio. A me è sembrato questo video molto simile come testa a quello che ha fatto una settimana fa Alvaro Morata quello in cui correva tosto e concentrato sotto la pioggia più di una settimana fa. In che senso? Temi Ebram e Alvaro Morata non fanno finta di niente, tranquilli, non minimizzano. Lo sanno che siamo partiti male e che abbiamo dei problemi. però fanno un tentativo quello di sgombrare la testa. Noi abbiamo la testa troppo piena. Abbiamo un ingombro notevole come squadra perché vedo ancora errori, latitanze, amnesie, vaghezza che ci ha accompagnato purtroppo da quando una nostra stagione che era in quota che era azzardo a usare questo termine positiva fino alla partita d'andata di Europa League con la Roma da quel momento c'è stato questo trauma continuo che ci ha riempito la testa e anche queste due settimane di sosta ci hanno riempito la testa non hanno fatto altro che creare il giorno della marmotta ogni giorno lo stesso giorno ogni giorno a parlare del cooling break ogni giorno a parlare di Ibra dove è dove non è e tutto questo e tutto questo ti infarcisce la testa inevitabilmente e allora Alvaro Morata cerca di dare un segnale correndo sotto la pioggia carichiamoci ragazzi pensiamo alle prossime partite Temi Ebram prova a dare un messaggio positivo Alvaro Morata e Temi Ebram sono arrivati qui con quelle due punizioni intendo dire un bel gesto tecnico con due bei con due bei tiri al pallone Alvaro Morata e Temi Ebram sono venuti qui con la testa sgombra Temi Ebram sembra rinato non so che cosa si sia lasciato alle spalle a Roma e la Roma per carità del cielo sono questioni di Ebram e tifosi della Roma però sembra rinato e Alvaro Morata è arrivato qui sull'onda sulla spinta di un titolo europeo vinto da capitano con la nazionale spagnola quindi hanno la testa libera e ragazzi per noi sarà più utile provare ad assecondare i segnali di carica di chi ha la testa libera e che ha una voglia pazzesca di giocare con noi o quelli che dall'esterno continuano 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 senza stancarsi mai Dio, Leao, Ibra cioè capite forse sono forse sono tentativi che vanno che vanno non oso dire applauditi perché non si può il politicamente la dittatura del politicamente corretto impone che non si possa applaudire in questo momento in casa nostra però al di là delle battute degli scherzi però ecco proviamoci ad andare a giocare da Milano Venezia in poi con la testa libera Zlatan Ibrahimovic non è in vacanza lo dicevo ieri il suo impegno è rivolto al futuro in queste due settimane la stima e l'ampiezza del mandato del ruolo di Gerry Cardinale nei confronti di Zlatan è rimasta intatta ma non c'è neanche bisogno di dirlo perché significerebbe dare importanza a cose che non hanno importanza e quindi andiamo avanti andiamo avanti a trovare una nostra stabilità e una nostra pulizia mentale che deve però ragazzi perché noi possiamo dirci tutte le cose belle che vogliamo prima delle partite poi evidentemente tocca alla squadra sul campo tocca alla squadra far parlare il campo perché noi possiamo provare a risettare quel che vogliamo ma se poi giochiamo un'altra partita vaga involuta e senza identità poi evidentemente tutte le parole del prepartita se le porteranno via altre polemiche ma noi dobbiamo fare in modo che non sia così cioè una una forza d'urto contraria rispetto al mood generale sul Milan mettiamole ma a partire dalla squadra io non sto non sto parlando in questo momento di tifosi di media di social sto parlando della squadra sto parlando della squadra perché poi i tifosi stasera ci saranno le stime ci danno 70.000 o poco più per Milan-Venezia quindi i tifosi ci sono e ci sono sempre quando c'è la partita quando c'è la maglia in campo i tifosi i tifosi ci sono questa volta però tocca a noi un po' anzi più di un po' a proposito i tifosi il comunicato di ieri della curva sud inevitabile inevitabile che il nostro inizio di campionato è stato a dire poco deludente e che naturalmente nessuno è esente da quelle che all'esterno si chiamano colpe che all'interno chiamiamo responsabilità è evidente è evidente e io interpreto l'accoglienza che darà la curva la squadra un'accoglienza che non sarà di contestazione ma che sarà un po' in linea con il comunicato di ieri di sveglia nel calcio poi se fosse così semplice quando ci si dice sveglia allora io mi sveglio però anche se mi sono svegliato poi il calcio resta un gioco complicato quando hai dei problemi in una grande piazza in una grande squadra però l'obiettivo se non altro dal punto di vista così anche fisico anche acustico anche cardiaco è quello di dare una sveglia una scossa alla squadra come la curva ha sempre fatto la curva nostra ha sempre fatto anche in positivo perché io non dimentico non dimentico la fiaccolata di Viale Caprilli prima di Milan Lazio del dicembre 2020 quando poi vinciamo 3 a 2 nel finale con il colpo di testa di Teo non dimentico tutte le volte che la curva è andata a Milanello a caricare la squadra quella volta che andò a casa Milan non per celebrare una vittoria ma per ringraziare la squadra e gli sforzi fatti per il secondo posto del 2021 che ci aveva portati dopo 8 anni in Champions League quindi la curva è obiettiva quando le cose vanno bene tiene il fuoco caldo tiene il fuoco acceso mettendoci del suo di entusiasmo di quando le cose non vanno bene sembrano su un binario strano per quello che naturalmente viene percepito ed è rispettabilissimo dall'esterno allora la curva cerca di dare una una spinta una spinta di stimolo una spinta che vada nell'interesse del Milan perché poi se il Milan vince i tifosi in generale la nostra curva sono contenti ed è quello che dobbiamo fare di tutto per fare stasera ci vediamo ci sentiamo dopo la partita ma dopo il post partita di Minan TV fine partita post partita di Minan TV e poi ci troviamo qui ciao a tutti di Minan TV 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 di Minan TV